Manca una rete vera per l'assistenza di questi pazienti, quindi lo scopo di questa giornata è proprio questo, mettere insieme competenze diverse, società scientifiche diverse per poter costruire qualcosa da portare al tavolo tecnico regionale e poter scrivere un PDTA che poi ci aiuterebbe a gestire meglio questi pazienti in tutte le province della Sicilia. Il PDTA è un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale, cioè è un documento che indirizza i medici ai giusti percorsi che i pazienti dovrebbero fare per una buona assistenza. Coinvolge i centri medici, quindi i CDCD che sono gli ambulatori, coinvolge i centri diurni che sono gestiti spesso dalle associazioni dei familiari e dovrebbe coinvolgere anche il territorio, nel senso che dovrebbe essere implementata una continuità tra ospedale e territorio, cosa che in realtà di fatto non esiste in Sicilia. Quello che racconta il docente dell'Università di Palermo, Tommaso Piccoli, uno dei responsabili scientifici del convegno, insieme allo psichiatra Dario Cannavò, è uno degli aspetti affrontati durante l'evento svoltosi al CEF Passi in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Il convegno sul tema Rete Assistenziale per le Demenze è stato promosso dal CEF Passi in collaborazione con SINDEM, associazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologie per le Demenze, l'Associazione Italiana di Psicogeriatria e l'Associazione Alzheimer Uniti Italia Ollus. È patrocinato dal Dipartimento di Biomedica, Neuroscienza e Diagnostica Avanzata dell'Università di Palermo. Durante le due sessioni, una mattutina e l'altra pomeridiana, si sono confrontati specialisti, esperti, ma anche rappresentanti delle associazioni scientifiche e dei familiari dei pazienti per discutere anche del Piano Nazionale delle Demenze o ancora delle innovative strategie farmacologiche nel trattamento dell'Alzheimer, oltre al concetto di rete. L'obiettivo è sensibilizzare da una parte la società, dall'altra gli operatori del servizio sanitario regionale a occuparsi delle persone malate di Alzheimer. Tante volte questo impegno non c'è stato come ci sarebbe dovuto essere e alcune reti che sono state costituite in altre regioni qua stentano a partire. Quindi noi ci facciamo promotori di questa azione di diffusione del sapere in questo settore appunto perché si possa costruire una rete ottimale che possa far conoscere tutto ciò che si può fare per queste persone.